ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con racing time oggi in primo piano ferrari formula 1 naturalmente siamo nella fase finale della stagione una fase finale una seconda fase del campionato di formula 1 che merita sicuramente di essere raccontata perché i valori in campo diciamo non sono probabilmente più quelli espressi invece dai primi gran premi ma io non voglio rubare altro tempo vado subito a presentare gli ospiti in studio per questo appuntamento di racing time partendo da emanuele citofilo marino brand manager di hublò italia buongiorno buongiorno a tutti ritroviamo con una carica diversa tra parentesi rispetto all'ultimo quindi complimenti anche anche per questo emanuele e poi come sempre naturalmente paolo artemi style corriere della sera buonasera a tutti ben arrivato promosso sì promosso 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 a pieni voti promosso da hublò emanuele allora lo abbiamo detto formula 1 ma anche ferrari i 90 anni come hublò siete pienamente totalmente coinvolti in questa ricorrenza importantissima ma so che sei anche reduce dall'autodromo del mugello delle piste più belle al mondo mi permetto di dire che ha ospitato questo grandissimo evento annuale gran finale ferrari come è stato è stato emozionante è stato vibrante come sempre perché sappiamo che poi ci sono tantissime attività e poi insomma l'obiettivo di far vivere a tutti i clienti in prima persona quella che proprio l'emozione del mondo ferrari sì esatto noi di hublò eravamo con una piccola diciamo delegazione di 50 persone fra giornalisti italiani internazionali fra clienti e clienti finali perché l'obiettivo è quello di far vivere anzi quello di far unire la famiglia blu e la famiglia ferrari in queste grandi occasioni e farli respirare quella che è proprio quindi le competizioni ferrari in questo caso del challenge un weekend pieno di attività da giri in box hot laps era stato allestito per l'occasione un bellissimo museo che è stato privatizzato per qualche tempo e abbiamo fatto noi un giro noi di hublò e beh c'è un orologio che ha rappresentato un po' quest'anno questo mondo in particolare challenge che vuol dire anche gt in un certo qual modo no esattamente che è quello che abbiamo oggi in studio che è il che ringraziamo naturalmente per avercelo portato sappiamo che non è mai facile anche però no non è mai facile anche perché qui si tratta di un'edizione limitata dei 500 pezzi questo già spiega il tutto esatto e attualmente in italia c'è solo questo e questo è un classic fusion ferrari gt in carbonio e rappresenta per hublò un po' di novità la prima è che abbiamo un movimento unico quindi movimento di manifattura crono flashback per la prima volta su un classic fusion e sempre per la prima volta un orologio hublò ferrari su un classic fusion perché prima erano soltanto sulla cassa big bang oppure su le edizioni molto limitate come la ferrari o il tech frame un orologio che stava in un successo commerciale pazzesco da qui la difficoltà ad averlo però grandissime soddisfazioni disegnato da flavio manzoni e spiegava fra di manzoni quando è stato l'orologio presentato a basilea che questo rappresenta esatto il segnatempo indossato da clienti ferrari tutti i giorni quindi non è un prodotto esasperato come big bang è una cosa che un prodotto pensato per tutti i giorni più indossabile più facile e che si ispira stilisticamente per esempio alla bocchetta dell'area dell'812 superfast che è la gt per nitrosomasia della gamma ferrari e grande protagonista anche nel mugello naturalmente grande protagonista perché i nostri clienti hanno fatto gli hotlaps sull'812 superfast safety car tutta brandizzata blu e questa è la blu safety car è quella che ha fatto la safety car per tutto weekend a tutte le competizioni del challenge è un'auto quasi iconica anche la safety car ma non è l'unico caso insomma diciamo no paolo diciamo che ci può stare questa cosa la safety car è veramente un'auto di grande prestigio perché se è quella che guida le corse automaticamente vuol dire che non è che abbia qualcosa in più delle macchine che corrono ma senz'altro ha qualcosa che può essere considerato alla pari e poi è il concetto del safety concetto di dettare le regole di sicurezza no e questo è trovo che sia straordinario poi l'812 fast ecco dice il nome stesso 12 12 sono i 12 cilindri di un motore straordinario super premiato ormai destinato tra qualche decina d'anni ad essere nei ricordi perché tutti vivremo lo shock dei motori elettrici che sono una novità clamorosa anche se mio papà che faceva il perito elettronico cent'anni fa sviluppava il freno magnetico dei motori elettrici per cui hanno un bel 130 anni questi motori elettrici e vengono spacciati c'è voluto un po' di tempo un'evoluzione lenta anche 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 ferrari naturalmente arriverà a fare la sua supercar elettrica già ha fatto vedere una supercar ibrida naturalmente ferrari mille cavalli paolo senti ti porto via dall'elettrico ma ti riporto invece sulla formula 1 lo dicevamo stavamo parlando di questo grande evento a mugello della grandissima passione ferrari passione ferrari che insomma forse ha ripreso un po di coraggio dopo una prima parte della stagione in utile negarlo al di sotto delle aspettative certamente si pensava che quest'anno sarebbe stata perlomeno una lotta alla pari con mercedes non è stata ma secondo te cosa è successo perché comunque negli ultimi gran premi diciamo dei gran premi veloci spa monza ma anche a seguire non ferrari non ha raccolto tutto quello che credo potesse però obiettivamente una crescita c'è stata ma guarda una crescita no non ti sbaglio assolutamente poi i dati parlano chiaro la crescita c'è stata ferrari oggi è l'automobile da battere non è più mercedes l'automobile più forte e ferrari l'automobile da battere che cosa le manca ferrari manca quello che volgarmente si chiama fattore c sì un po di fortuna fattore ecco se avesse avuto un pochettino più di fortuna molto probabilmente nelle ultime tre o quattro gare insomma dalla ruotata di verstappen alle clare a quanto riguarda 47 giri con le gomme dure di hamilton in messico molto probabilmente qualche cosa sarebbe cambiato una cosa velocissima prima di tornare manuele secondo te a parte la fortuna anche il fattore gestione di alcune situazioni tipo di due piloti o di alcune strategie di gara hanno avuto un peso ma tutte le cose io le questo elemento sempre nel fattore fortuna perché se tu fai uno sgarro a uno dei piloti e quello vince sei un genio incredibile se tu invece fai uno sgarro e perdono tutti e due sei diventato un deficiente e sì ci sono stati degli errori di strategia in effetti magari però anche i piloti possono essere capaci di imporre di più la loro personalità dopo il gran premio del messico leclerc ha detto noi piloti io avrei dovuto essere più determinato avrei dovuto dire no lasciatemi le gomme fatemi fare un pit stop solo invece di due non lo ha fatto il risultato è che è arrivato quarto però esperienza pilota giovanissima insomma adesso non vado a riciclare termini che sentiamo sempre tipo predestinato perché sinceramente non non li sopporto a livello personale però dobbiamo dire insomma che sicuramente i numeri ne ha tanti tanti ritorniamo a vivere il rapporto ferrari un blu quindi abbiamo parlato del mugello abbiamo parlato della formula 1 con l'analisi di paolo mescoliamo ancora le cose tornando indietro non di tantissimo monza altro grandissimo evento altro grandissimo momento anche penso per per oblo italia in questi festeggiamenti sì 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 presenti chiaramente al gran premio d'italia di monza anche nostro amministratore delegato riccardo guadalupe era presente così come rappresenta il mugello e d'altronde è un uomo molto attivo dobbiamo dire non soltanto ovviamente professionalmente non sta a me a dirlo ci mancherebbe però è un uomo molto molto presente per moltissimo moltissimo viaggio in continuazione ha una forza una carica che lui ha un segreto evidentemente che non sappiamo anche in quell' occasione si cerca di fare respirare un mondo più specifico che quello della formula 1 e vivere anche di un prodotto diverso a livello orologero ovvero le edizioni limitate per dei 90 anni della scuderia ferrari condizioni un'edizione di un big bang unico davanti al 90esimo anniversario declinato in tre materiali la cassa è fatta o in platino a significare il passato della scuderia o in carbonio che rappresenta invece il presente o in zaffiro e rappresenta il futuro questo ciò spiegava anche questo fra di manzoni a basilea quando questo prodotti questi prodotti sono stati presentati l'unico aspetto a livello estetico che accomuna queste tre versioni tutte e tre a 90 90 pezzi ciascuno è la lunetta che è fatta in carboceramica che insegnate è il materiale dei dei freni paolo siamo in chiusura di puntata scusami ma se parliamo di questi pezzi unici limitati comunque edizioni limitate probabilmente ci si orienta anche verso l'argomento collezionismo che poi è un altro argomento che lega benissimo il mondo ferrari ublò mondo dell'auto ovviamente almeno per alcuni marchi in maniera in maniera importante ma cosa ne pensi io penso che il mondo del collezionismo ormai ha scoperto blu blu se non vado errato compie nel prossimo anno i 40 anni di giusto e parlando io e te prima che iniziasse la trasmissione tu mi hai raccontato che già ci sono quelli che hanno avuto i primi oblo e che non avevano capito cosa avevano ricevuto o in regalo cosa avevano acquistato tirano fuori la loro bella scatola dalle cassaforti dove sono riposti questi orologi e li sfoggiano beh invece da parte mia ti posso dire che sono stato recentemente a un'asta e ho visto che un orologio ublò uno dei primi orologi ublò è stato battuto a un valore di circa 42 mila euro che mi sembra fossero realmente quasi il doppio di quello che era stato pagato quando era stato acquistato era appartenuto a un personaggio famoso e il nome non lo posso dire è questa la tendenza sì la strategia commerciale di ublò di oggi è mutata sicuramente rispetto alla prima vita diciamo di ublò è bello vedere come i prodotti della prima vita di ublò stiano stiano ritornando sui polsi lo vediamo perché nel nostro reparto after sale vediamo un sacco di cintorini nuovi o meglio che no fatti per le prime casse che stanno che stanno che stanno che stanno cambiando quindi la gente vuole rindossarli ma anche se avvicina al prodotto al prodotto contemporaneo di adesso siamo purtroppo in chiusura di questa puntata però spero che anzi sono sicuro che vi abbiamo raccontato davvero delle storie molto molto interessanti non io ma i nostri ospiti sicuramente e li vado ovviamente a salutare ringraziare partire da emanuele citofilmarino brand manager per ublò italia grazie mille manuele di essere stato con noi e ti aspettiamo ovviamente presto e come sempre grazie mille anche paolo artemi grazie paolo buonasera a tutti gli amici di safe drive motorsport e noi ci vediamo invece appunto la prossima settimana con safe drive motorsport racing time